In questo video parlo di Formula 1. C'è stato un periodo in cui la Lamborghini è stata in Formula 1 con il Modena Team. Era il 1991, gli anni in cui correvano grandi campioni come Senna, Mansell, Prost, Schumacher, Harkinen. In questo video ho intervistato Ismo Sabattini, un meccanico che oggi si occupa della manutenzione di una delle sole due monoposto prodotte per partecipare al campionato di Formula 1 nel 1991. E la Lambo 921, realizzata dall'ingegnere Mauro Forghieri per il Modena Team, è motorizzata con un 12 cilindri firmato Lamborghini. I risultati non furono quelli attesi e la monoposto motorizzata a Lamborghini durante il campionato non ottenne risultati positivi. È stato un flash ma molto bello perché ha fatto veramente un pezzo di storia di Modena, diciamo così. La macchina avrebbe avuto delle potenzialità secondo me molto importanti, solo che purtroppo è stato troncato lo sviluppo nel momento migliore. Però la macchina era molto valida per l'epoca. Parte il motore che è un motore eccezionale che comunque già allora aveva 750 cavalli. calcola che questo motore era stato scelto anche da Senna per andare sulla McLaren e poi dopo le cose sono andate diversamente. Poi comunque c'è la caratteristica che allora non era considerata molto il discorso delle pance cambiabili, che ha la scocca unica, però poi puoi vestirla come vuoi. Quindi potevi cambiare l'aerodinamica quando e come volevi con dei costi abbastanza limitati. E questo era un grosso vantaggio. Questa è una pagina della nostra storia. Io sono un emiliano e questo qui mi fa solo piacere tenerci dietro.